Cominciano a delinearsi i risultati all'altezza della quarta giornata di Champions I Blancos partiti forti con due vittorie si sono fermati nelle ultime due giornate Zero punti all'attivo Oggi hanno incontrato la corazzata del Derby Sports, del GIECASE Che ha chiuso la partita sul 10-3 Chiediamo a Rosera Claudio, autore di una doppietta e soprattutto migliore in campo per la sua squadra Di raccontarci com'è giocare contro il GIECASE Migliore in campo ma è una consolazione visto che abbiamo perso 10-3 Però sono forti, fanno girare molto la palla, noi non l'abbiamo vista per quasi tutto il secondo tempo Sul primo ce la siamo giocata Colpa mia, ho chiamato un timeout quando non dovevo Abbiamo preso 4 gol di fila, mi hanno detto Vabbè, non me la perdoneranno, mi sa Fino a quel momento erano 1-1 Poi comunque noi siamo andati già in campo sapendo di perdere Ma convinti che comunque ce la potranno giocare Che è un allenamento che è comunque tutta esperienza Ci servirà per batterli magari in futuro Fa 4-5 anni dai, almeno 6 punti, passate 4 gare, ne manca una soltanto Qual è l'obiettivo a questo punto? L'obiettivo è almeno non perdere con state le impianti Provare anche a vincere, dare una mano ai nostri amici del canicato e cazzo Salire in Champions League Noi comunque siamo già in Europa League Siamo contenti così, non se l'abbiamo fatto E adesso proviamo a vincere quella Proviamo, tantomeno andare il più in alto possibile Allora un augurio per la prossima partita Sicuramente di parte Però buona fortuna per la prossima partita E sicuramente per una buona Europa League Grazie mille Ciao a tutti